Nuove multe per l'abbandono dei rifiuti, tecnico e polizia locale in azione a Celano. Riduzione tasse a Magliano De Marsi. La decisione è stata adottata durante l'ultimo consiglio comunale. Compleanno della DOC Montepulciano. Evento festeggiato nel corso del Vinitaly. Tecnologie e servizi per le imprese. Progetto ideato da Confindustria. Un cordiale saluto dagli studi di Antena 2. Operatori della Tecneco e polizia locale di Avezzano indagano tra i rifiuti abbandonati e multati 10 cittadini. Anche a Celano, la società del gruppo di Carlo, che si occupa della gestione del servizio di igiene urbana, ha effettuato dei controlli in collaborazione con la polizia locale per dire basta all'abbandono dell'immondizia ai bordi delle strade e nelle aree verdi. Questa mattina il BRITS ha interessato la qualità Rio Pago, via Barrea, località Santa Cecilia e via Tiburtina. Grazie al supporto degli agenti messi a disposizione dall'amministrazione Santilli, gli operatori Tecneco hanno aperto i sacchi trovando dati sensibili che hanno permesso poi alla polizia locale di emettere ben 10 verbali per abbandono dei rifiuti. Inoltre, gli uomini della Municipale hanno multato anche alcune utenze dove Tecneco aveva rilevato la non corretta differenziazione dei rifiuti, lasciando un bollino rosso di non conformità ed una scheda di segnalazione sulle carenze. Il Presidente della Tecneco, Umberto Di Carlo, ha assicurato che si continuerà su questo passo su tutti i comuni per dire basta alle strade, alla nostra natura ricoperta di rifiuti abbandonati. Il servizio c'è, la Tecneco è a disposizione degli utenti, quindi preghiamo i cittadini di rispettare le regole per il bene della loro città. Soddisfatto il Sindaco di Celano, Settimo Santilli, che da tempo promuove iniziative di questo tipo. Stiamo agendo, ha detto da tempo, non solo per il contrasto dell'abbandono dei rifiuti, ma anche per l'evasione dell'iscrizione a ruolo tari e quindi quasi sempre anche di altre tasse, ha commentato Santilli. Purtroppo dobbiamo constatare che l'abbandono dei rifiuti è legato soprattutto ai giorni di festa e dal flusso turistico di Celano, ma anche e soprattutto di quello proveniente dalle località sciistiche che transitano nella nostra città per dirigersi verso l'autostrada. Cronaca, la compagnia carabiniera di Teacolzo ha posto in essere uno specifico servizio a tutela degli utenti della strada, predisponendo pattuglie dell'aliquota radiomobile in servizio perlustrativo finalizzate alla prevenzione degli illeciti derivanti dalla mancata osservanza delle disposizioni del codice della strada. In particolare ieri sono stati eseguiti posti di controllo a margine del passaggio a livello ubicato su via Marconi del comune di Teacolzo. Molti utenti sono stati multati per non aver rispettato l'articolo del codice della strada comportamento ai passaggi a livello. In parole povere, nel momento in cui si attiva il semaforo che precede l'arrivo del treno, l'automobilista deve subito fermarsi. Invece, nel corso dei controlli, al passaggio di un singolo convoglio, cinque sono stati gli automobilisti fermati e sanzionati per la mancata osservanza delle disposizioni di legge. In questo caso è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma in denaro, nonché la penna accessoria della sottrazione dei punti sulla patente. Ieri pomeriggio, personale in servizio presso la squadra volante del Comissariato di Pubblica e Sicurezza di Avezzano, ha tratto in arresto un cittadino marocchino di 20 anni con a carico precedenti penali e destinatari di una ordinanza di applicazione di misura cautelare per reati contro il patrimonio. Gli operatori, mentre effettuavano il normale servizio di prevenzione e controllo del territorio, hanno notato lo straniero mentre si aggirava nei pressi del centro cittadino. Lo stesso, come da nota di rintraccio, in possesso del personale di polizia, è risultato come persona da ricercare e pertanto arrestata. Allo stesso sono stati notti identificati un provvedimento amministrativo, tra i quali l'avviso orale del questore dell'Aquila e la revoca del titolo di soggiorno. Dopo gli adempimenti di rito, è stato accompagnato presso l'abitazione della madre in regime di detenzione domiciliare a disposizione dell'autorità giudiziaria. Si è svolta ieri, lunedì, presso la sede della CNA di Avezzano, l'Assemblea Separata Territoriale Marsicana del Confidi Fidimpresa Abruzzo. L'Assemblea è stata preseduta dal componente del Consiglio di Amministrazione Pasquale Cavasini, che ha illustrato i principali risultati conseguiti nell'esercizio 2017. Al 31 dicembre 2017 i soci del Confidi sono 9.732 e di questi 999 sono i soci entrati nella compagine societaria nell'anno di riferimento. Gli stessi hanno versato 867.744 euro di capitale. Nel 2017 sono state deliberate 1.267 pratiche di finanziamento per un importo complessivo di 53 milioni di euro. Sono state erogate dalle banche oltre 30 milioni di euro alle seguenti categorie. Artigiani 14 milioni, circa 600 mila euro agli agricoltori, 9 milioni a commercianti, 2 all'industria, ai liberi professionisti altri 5 milioni. I finanziamenti erogati sono stati impiegati per il consolidamento il 7%, per liquidità il 69% e per investimenti il 24%, per le seguenti linee di credito. Fidi a breve il 25%, rateali ordinari il 67%, antiusura 8%. I soci presenti all'Assemblea di Avezzano, dopo ampia ed approfondita discussione, hanno approvato il bilancio ed hanno eletto i delegati dell'Assemblea regionale nelle persone di Francesco D'Amore e Concezio di Gian Bernardino. L'occasione è stata utile non solo per adempiere alle procedure previste nello Statuto, ma anche per fare il punto sulle attività del Confidi nel comprensorio marsilicano e per presentare i nuovi prodotti di garanzia offerti dallo stesso Confidi del CNA. Si è provveduto inoltre ad informare i soci sull'attivazione nella sede di Avezzano dello sportello di servizi di consulenza finanziaria globale per gli associati. Imprese cittadini attraverso il quale, grazie alle convenzioni in essere, la CNA di Avezzano può offrire un'assistenza completa in materia finanziaria agli imprenditori, ma anche ai cittadini. Una buona notizia per i residenti del Comune di Magliano dei Marsi. Nei giorni scorsi, infatti, durante la seduta consigliare, convocata dal Sindaco Mariangela Amiconi, il Consiglio Comunale di Magliano dei Marsi ha approvato il bilancio di previsione per l'anno 2018. Nonostante le importanti difficoltà finanziarie dell'ente comunale, l'amministrazione è riuscita ad abbassare le tasse in modo significativo, come testimoniato dalla riduzione dei lattari per il 2018. Il risparmio per i cittadini, infatti, è pari al 18% per le utenze domestiche e dal 13% per le utenze non domestiche. Questo si aggiunge alla individuazione e distribuzione delle subcategorie ricomprese nelle utenze non domestiche, che nell'anno 2017 ha consentito un importante sostegno agli operatori commerciali. La riduzione tari 2018 è un risultato lusinghiero ottenuto dal lavoro sinergico dell'amministrazione comunale e degli uffici nella redazione del nuovo contratto di igiene urbana entrato in vigore a pieno regime dal 1 marzo scorso. L'importante riguardo raggiunto, spiega il sindaco Mariangelo Amicoli, di riduzione della pressione fiscale locale non rappresenta un punto d'arrivo in quanto è espressa volontà dell'amministrazione comunale implementare tale tendenza positiva già dal prossimo anno. Nel bilancio di previsione, inoltre, è prevista la realizzazione di opere pubbliche urgenti a tutela della incolumità dei cittadini, come la sistemazione del tornante della frazione di Marano e, non ultimo, l'ultimazione dei lavori del nuovo plesso scolastico. Il bilancio 2018 è caratterizzato anche dallo spostamento degli uffici comunali e di tutta l'attività amministrativa per consentire la realizzazione dei lavori di adeguamento sismico della casa comunale. Le cento cantine abruzzesi presenti al Vinitali hanno festeggiato il cinquantesimo compleanno della DOC Montecruciano d'Abruzzo. È stata l'occasione anche per celebrare la peculiarità di questo vitigno che rappresenta ancora oggi il 56% del vignetto della regione. Produce 900 mila ettolitri su un totale di 2,5 milioni di ettolitri di vino abruzzese. Negli anni 50 e 60 il Montecruciano veniva considerato un vino da taglio. Poi ci siamo resi conto delle immense potenzialità di questo vitigno. Nelle degustazioni di questi giorni ho avuto il piacere di assaggiare diversi vini e mi sono reso conto che l'Abruzzo ha raggiunto risultati veramente importanti. Lo ha detto il vignaiolo Francesco Paolo Valentini, presente al Vinitali, per partecipare agli eventi dedicati alla DOC Montecruciano d'Abruzzo. Mezzo secolo di vita del nostro Montecruciano osservato ci ha fatto conoscere un vitigno davvero ricco di peculiarità ma difficile da lavorare perché genera vini piuttosto sfrutturati. Siamo riusciti comunque a produrre da questo vitigno vini eleganti ed armonici e l'evento di oggi coincide con un grande risultato raggiunto per il comparto vitivinicolo abruzzese. Sul Vinitali abbiamo un nostro servizio. La terza giornata del Vinitali di Verona si è aperta con i festeggiamenti per il cinquantesimo compleanno della DOC Montecruciano d'Abruzzo. I 50 anni sono stati l'occasione anche per fare il punto sulle peculiarità di questo vitigno che rappresenta ancora oggi il 56% del vigneto della regione con 19.000 ettari che producono 900.000 ettolitri su un totale di 2,5 milioni di ettolitri di vino abruzzese. Questi numeri forniti dal Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo che per l'occasione ha organizzato un evento nel Palazzo Gran Guardia di Verona per celebrare un vitigno di cui si hanno notizie storiche certe in Abruzzo almeno dal 1792 nelle zone più interne che poi si è diffuso verso il mare ed è diventato un pilastro della produzione dei vini delle grandi cooperative della regione per tornare adesso di nuovo a espandersi verso le montagne donando vini di altissima qualità. Come spiega uno dei vignaioli abruzzesi più famosi nel mondo, Francesco Paolo Valentini. Quest'anno è una data molto importante perché si festeggiano i 50 anni, anzi io direi mezzo secolo perché mezzo secolo dà maggiormente l'idea del trascorrere del tempo. In questi 50 anni si è fatto tantissimo, soprattutto negli ultimi 20 anni si è riuscito a trarre dal Montepulciano un vitigno eccezionale ma anche particolarmente difficile nella lavorazione perché dà vini piuttosto strutturati si è riuscito a tirar fuori dei vini particolarmente eleganti ed armonici quindi è anche un modo per festeggiare non solo i 50 anni ma un importante risultato raggiunto. Di strada ne è stata fatta tanta, in 50 anni un vino diciamo così da tavola invece sta diventando un vino davvero di qualità. Sì sì, è quello che dicevo, purtroppo negli anni 50-60 il Montepulciano era considerato un vino da taglio è una parola brutta che ho difficoltà a dirla, però era così. Però ultimamente ci siamo resi conto delle immense potenzialità di questo vitigno e infatti in questi giorni ci sono state delle degustazioni e ho avuto piacere di assaggiare tanti Montepulciani e mi sono reso conto che l'Abruzzo, attraverso il Montepulciano ma non solo, anche attraverso altri prodotti è riuscito a raggiungere dei risultati forse prima inesperati. Al Vinitali, l'Abruzzo ha rilanciato anche l'enogastronomia regionale con uno dei massimi esponenti abruzzesi, lo chef stellato Nicoromito il quale ha fatto il punto sul futuro del vino Montepulciano. Quali sono i vini abruzzesi più apprezzati all'estero? Sicuramente il Montepulciano, il vitigno Montepulciano anche se credo sempre di più che stiamo sdoganando quel concetto del Montepulciano di tanti anni fa che era un vino anche considerato un vino più da lavoro tra virgolette. Oggi il Montepulciano, grazie al lavoro di tanti produttori sta entrando nelle grandi tavole del mondo è bellissimo come quando giro, vado all'estero inizia a vedere sulle carte di ristoranti importanti ristoranti che hanno un peso internazionale vedere sulle carte le nostre cantine il territorio che rappresentano queste cantine. L'assessore alle politiche agricole Dino Pepe a margine del convegno sulle radici del Montepulciano d'Abruzzo rilancia il binomio vino-turismo come volano per valorizzare il territorio. Il vino racconta il territorio e il magnifico territorio della nostra regione è una regione ricca di parchi, di aree protette la regione per eccellenza verde d'Europa e il vino può raccontare tutto questo per fare in modo che possa essere questo prodotto di eccellenza della nostra regione un comunicatore particolare della regione e delle particolarità della nostra regione. In occasione del Vinitaly è stato assegnato all'azienda agricola Monti di Controguerra il premio Angelo Betti, medaglia di cangrande da oggi benemerito della viticoltura 2018 istituito nel 1973 il riconoscimento premia ogni anno un'azienda che si sia distinta per aver saputo promuovere e valorizzare la cultura vitivinicola del proprio territorio. Elena Monti ci racconta la storia della sua azienda. È un'azienda che il prossimo anno festeggerà le 50 vendemmie imbottigliate abbiamo la bottiglia del 1969 gelosamente custodita in cantina anche se l'azienda ha iniziato diciamo da molto tempo prima a fare vino noi abbiamo bottiglie addirittura del 45-46 anche se erano etichettate a mano da mio nonno Brunetto è una cantina che rispecchia molto l'attaccamento al territorio il territorio di controguerra che è un territorio particolarmente evocato alla produzione di vini di qualità. La società SNAM intende rettificare alcune informazioni non corrette circolate sul territorio abruzzese in merito alla centrale di compressione che la società ha in programma di realizzare a Sulmona in particolare precisa quanto segue è falso che le centrali di compressione producano particolato fine e ultra fine in quantità molto rilevanti è noto che i principali enti ed istituti di ricerca ambientali, nazionali ed internazionali considerino le emissioni di polveri di tali impianti pari a zero o comunque talmente trascurabili da essere considerate nulle non è un caso infatti che al netto delle differenze tecnologiche dei motori in questione nella quasi totalità dei blocchi del traffico delle città a causa dell'elevata concentrazione di polveri nell'aria le auto alimentate a gas metano possono circolare liberamente Industri 4.0 preparati al futuro strumenti operativi, tecnologie e servizi di supporto per le imprese è il progetto ideato da Confindustria che si articola a livello nazionale attraverso 18 incontri sul territorio giovedì 19 aprile con inizio alle ore 10 è in programma l'incontro all'Aquila presso la locale sede di Confindustria località Campodipile, zona industriale il Roadshow ha l'obiettivo di approfondire i temi legati all'industria 4.0 non solo i vantaggi legati alle agevolazioni previste attraverso il piano industria 4.0 ma anche il significato della quarta rivoluzione industriale un modo innovativo di fare impresa che investe l'organizzazione aziendale oltre che i processi produttivi l'incontro dell'Aquila è organizzato in collaborazione con Confindustria Abruzzo referente istituendo Digital Innovation Agbi a Industria L'Aquila, Abruzzo Centro, Confindustria Chieti Pescara, Confindustria Teramo e Confindustria Sistemi Informativi per prepararsi al futuro come ricorda il sito dedicato di Confindustria dove è possibile iscriversi gratuitamente punta ad offrire un'opportunità di approfondimento dell'ampio e variegato panorama di Industria 4.0 la sessione della mattina sarà dedicata ad illustrare come l'innovazione digitale possa cambiare le strategie di business e come la manifattura del futuro evolverà i propri processi con l'ausilio delle tecnologie abilitanti la sessione pomeridiana invece si concentrerà su due focus tematici così il presidente di Confindustria L'Aquila Marco Fracassi con questa iniziativa rivolta al sistema delle imprese prosegue il nostro forte impegno sui focus e sui paradigmi di Industria 4.0 stiamo intensificando le occasioni di studio e confronto proprio per sensibilizzare le imprese alle opportunità della quarta rivoluzione industriale per rilanciare la competitività aziendale e lo sviluppo del nostro territorio il presidente di Confindustria Abruzzo Agostino Ballone afferma con questo evento quale ulteriore passo si conferma l'intenzione da parte del nostro sistema associativo regionali di sviluppare un confronto proficuo sui nuovi paradigmi dettati da Industria 4.0 a partire dalla costituzione in Abruzzo del Digital Innovation Hub il settore ambiente del Comune di Avezzano comunica date ed orari del servizio di disinfestazione e dirattizzazione sul territorio comunale nel mese di aprile a cura della società Tecneco disinfestazione, larvicida, mese di aprile zone di intervento, mercoledì 18 aprile dalla mezzanotte alle 5.30 Avezzano Nord-Est compreso Scalzagallo giovedì 19 aprile dalla mezzanotte alle 5.30 interessate le frazioni Antrosano, Castelnuovo, Paterno, San Pelino e Caruscino a seguire Avezzano Centro Piazza Torlonia dirattizzazione, zona di intervento di intervento venerdì 20 aprile frazioni Borgovia Nuova, Borgo in Cile, Cese a seguire Avezzano Sud-Ovest zona Cupello e Piazza Cavour zona ovest di via Roma infine sabato 21 aprile frazioni interessate Antrosano, Castelnuovo, Paterno, San Pelino e Caruscino a seguire Avezzano Centro più Piazza Torlonia La CNA della provincia dell'Aquia attiverà il Centro di Ascolto Valori Donna contro la violenza fisica e psicologica subita dalle donne pressioni sul lavoro e in famiglia un centro di ascolto in cui oltre a raccogliere le testimonianze di donne sottoposte a soprusi di qualsiasi genere si applica una terapia importante quella di seguire il percorso riabilitativo che porti le vittime ad avvicinarsi al mondo del lavoro mettendo in piedi un'attività imprenditoriale artigianale per riconquistare dignità, fiducia in se stesse ed autonomia economica ad annunciare l'iniziativa il direttore della CNA della provincia dell'Aquia Agostino Derre durante la serata conclusiva della manifestazione Valori Donna che si è svolta al ridotto del teatro comunale dove è andato in scena lo spettacolo della cantautrice Grazia Di Michele Sante, Bambole e Puttane l'intento è quello di dare una nuova speranza a donne vittime di violenza sia fisica che psicologica di mobbing sul lavoro e di altre situazioni di dolore che le hanno portate sull'orlo del baratro spiega Derre facendole realizzare in altro come imprenditrici questo è il progetto che la CNA intende trasferire anche sul piano nazionale la media in Italia ci dice che quella delle imprese in rosa uscirà tra il 30% ed il 35% nel settore artigianale una fetta elevata che testimonia il valore delle donne come recita lo slogan della manifestazione un grido di dolore che si trasforma in speranza e supporto concreto per il futuro Fontamara oggi è il titolo dello spettacolo ispirato al romanzo delle grandi scrittore Ignazio Silone nell'anno del quarantennale della scomparsa che gli alunni hanno messo in scena oggi e che replicheranno domani mercoledì alle 10.30 al Castello Orsini Colonna di Avezzano la messa in scena degli allievi del liceo classico Torlonia e del liceo artistico Belisario nasce dal laboratorio drammaturgie del presente condotto da Gambierele Ciaccia per il teatro dei colori ed inserito nel piano dell'offerta formativa dello storico istituto in collaborazione con il comune di Avezzano progetto che ha la finalità della conoscenza e della lettura critica dei grandi testi della lettura contemporanea i giovani attori hanno riscritto una partitura dinamica e sempre vicina ai grandi problemi della giustizia e dell'uguaglianza Ignazio Silone nel suo libro più famoso seppe far diventare la storia dei cafoni del fuscino una storia universale ma quanti cafoni incontriamo ancora oggi quante storie dobbiamo ancora rivelare per un mondo più giusto domande antiche ma sempre più vicine alla nostra vita di cittadini del mondo l'ingresso è gratuito domenica 22 aprile grandi emozioni al centro commerciale I Marsi di Avezzano con Michele Zarrillo alle ore 16 musica dal vivo con Marco Boni Boni e Laura Fantauzzo e da seguire come abbiamo detto Michele Zarrillo si esibirà in una mini live acustico ed incontrerà i fan per foto ed autografi del nuovo CD di vivere e rinascere passioni Michele Zarrillo quindi l'appuntamento è per domenica 22 aprile al centro commerciale I Marsi di Avezzano quasi due ore di risate e divertimento hanno coinvolto i circa 700 spettatori presenti a teatro dei Marsi di Avezzano a corsi in massa per assistere ad uno degli ultimi appuntamenti con la stagione di prosa 2017 e 2018 ingresso indipendente commedia firmata da Maurizio De Giovanni testo e Vincenzo Incenzo regia ha visto nelle protagoniste Serenautieri e Tosca d'Aquino una coppia affetata e perfettamente galata nello spirito della commedia riuscitissimi i loro personaggi capaci di catalizzare l'attenzione e le curiosità della folta pratea ben liette di lasciarsi trasportare da battute piccanti e divertenti siparietti un testo teatrale che ha saputo alternare con equilibrio ed intelligenza momenti irari a momenti più intimi e profondi senza mai risultare forzato nei suoi passaggi una messina scena scorrevole ed efficace dunque di rilievo anche il cast di supporto con Giovanni Cifoni Bianca Maria Lelli Pierluigi Misasi e Fioretta Mari che è stata applauditissima gli ultimi due eventi della rassegna che fino ad ora è stata un successo di critica e pubblico saranno il 4 maggio con bolle di sapone ed il 10 maggio con copenhagen per informazioni e biglietti rivolgersi al punto informativo di corso della libertà Avezzano o di consultare la pagina Facebook Teatro dei Marzi Prosa Avezzano Credito e lavoro le novità per le piccole e medie imprese è il titolo del convegno che si svolgerà mercoledì 18 aprile alle ore 15 al Palazzetto dei Nobili all'Aquila l'iniziativa è organizzata da Confartigionato Chieti L'Aquila in collaborazione con Credit Fidi Artigian Cassa e l'Ordine dei Dottori Commercialisti della circoscrizione del Tribunale di L'Aquila e Sulmona Dopo i saluti di Pierluigi Arduini Vice Direttore Generale Confartigionato Imprese Chieti L'Aquila del Sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi e del Presidente dell'Ordine dei Commercialisti Ettore Perrotti a Evo riprenderanno parte il Direttore Generale di Confartigionato Chieti L'Aquila Daniele Giangiulli Silvia Lorenzini responsabile Garanzia Artigian Cassa Emanuele Incann di Invitalia Riccardo Giovani Direttore Relazioni Sindacali di Confartigionato Imprese e Vincenzo Rivera Direttore Generale della Regione Abruzzo Vari gli argomenti che verranno trattati nuove misure per l'accesso al credito la riforma del Fondo Centrale di Garanzia gli incentivi per le nuove imprese giovanili e femminili la quarta rivoluzione industriale ed il futuro del lavoro un focus sull'artigianato e il ruolo della Regione Abruzzo a sostegno delle piccole e medie imprese Sport e Montagne un binomio che in Abruzzo trova la sua massima espressione grazie alle tante attività delle associazioni del territorio regionale che rendono vivo e vitale il nostro patrimonio naturalistico valorizzandolo in termini turistici ed ambientali è in questo senso che ho presentato ho pensato ad una legge regionale che proprio attraverso lo sport promuova le montagne abruzzesi lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale Lorenzo Berardinetti che ha depositato una specifica proposta di legge al fine di creare uno strumento normativo capace di diffondere la conoscenza e la cultura delle attività sportive promuovere e salvaguardare i territori dell'area montane e sviluppare la pratica delle discipline all'area aperta una mission che intendo raggiungere insieme ai protagonisti principali del nostro territorio montano e dell'area interna affermato Berardinetti è per questo che ho incontrato le associazioni sportive della regione per avviare con loro un percorso partecipato ed un programma condiviso che porterà alla stesura di una legge ad hoc in linea con le esigenze di potenziare l'indotto turistico e sostenere al meglio le associazioni sportive prima dei saluti vi ricordiamo che questa edizione del telegiornale la potrete rivedere integralmente sul nostro sito internet www.antenna2tv.it o sulla nostra pagina facebook Antena 2 Avezzano dove sarà possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antena 2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni ora vi lasciamo alle previsioni del tempo e vi diamo appuntamento alla prossima edizione del telegiornale Salve e ben ritrovati a questo nuovo aggiornamento meteo su Antena 2 come possiamo notare dalla nostra immagine grafica l'instabilità ci interesserà ancora una volta nella giornata di mercoledì a causa delle infiltrazioni umide ed aria fresca in quota che scorreranno su un cuscino caldo umido queste infiltrazioni d'aria fresca continueranno a rendere instabile il tempo nella giornata di mercoledì mentre da giovedì si rinforzerà l'alta pressione e il tempo sarà bello per tutto il fine settimana come potete notare nella giornata di mercoledì ancora rovesci di pioggia sparsi a partire dal pomeriggio in effetti la mattinata sarà bella su gran parte delle nostre zone interne invece nel pomeriggio il tempo sarà disturbato da annuvolamenti cumuliformi associati a rovesci di pioggia o temporali invece sulla fascia costiera le condizioni meteorologiche si manterranno stabili e le temperature saranno in aumento su tutto il nostro territorio abruzzese mentre le temperature minime subiranno una diminuzione sulle nostre zone interne montuose sulla fascia subappellinica rimarranno in lieve diminuzione invece sulla zona costiera grazie per la cortese attenzione è tutto e arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.